sorelle e fratelli carissimi che accogliete gesù dono di amore del padre figlio dell'uomo innalzato per la nostra salvezza pace a voi il dialogo tra gesù e nicodemo narrato nel vangelo di giovanni al capitolo 3 sarà oggetto della nostra riflessione odierna la liturgia ci presenta il brano compreso nei versetti 14 21 il dialogo tra l'anziano maestro di israele e gesù è già iniziato il messia ha introdotto con gradualità nicodemo nella verità del suo mistero di figlio inviato per la nostra salvezza una salvezza che si realizzerà con il compimento del mistero pasquale bisognerà infatti che sia innalzato il figlio dell'uomo versetto 14 gesù lo ricordiamo verrà innalzato sul legno della croce il credere in lui ci darà la vita eterna versetto 15 e questo è il discorso che gesù rivolge a nicodemo l'annuncio del mistero pasquale da parte di gesù è preceduto da un rimando vetro testamentario richiamo vivo ed efficace per la coscienza di una israelita osservante quale era nicodemo il richiamo è un riferimento al libro dei numeri capitolo 21 versetti 4 9 l'episodio citato è quello degli israeliti che nel cammino del deserto venivano colpiti dai morsi letali di serpenti velenosi jave dio aveva ordinato a mosè di fondere un serpente di bronzo e di innalzarlo su un'asta di legno al centro dell'accampamento chiunque dopo essere stato morso da un serpente velenoso avesse guardato il serpente di bronzo sarebbe rimasto in vita l'antica salvezza è poi ora confronto con la nuova quella operata da gesù col suo essere innalzato sul legno della croce sarà la fede in lui a farci accedere ad essa e a ricevere in dono come effetto di grazia la vita eterna l'evangelista giovanni inserirà a questo punto l'evento pasquale nel grande disegno salvifico voluto e compiuto dal padre tramite gesù direi infatti dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna versetto 16 questo annuncio che riprende il tema della vita eterna è rivelatore della misericordia di dio il versetto 17 proclamerà infatti dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui la salvezza manifestata in cristo è il risultato della divina misericordia condizione per accedere alla salvezza ancora una volta sarà la fede credere al figlio toglierà la condanna non credere in lui contiene già ora la condanna cita infatti il testo evangelico chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di dio versetto 18 Gesù creduto figlio unigenito unico nome di salvezza sotto questi cieli è il signore dell'oggi della nostra fede il giudizio nascerà dunque dal nostro credere o non credere in lui il versetto 19 ci ricolloca in tematiche care all'evangelista giovanni il tema del giudizio è accostato infatti all'iniziale tema della luce il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce versetto 19 il binomio luce tenebre già incontrato nel prologo di giovanni al capitolo 1 riferito a gesù è ripreso come possibile scelta umana alternativa o scegli gesù luce è venuta nel mondo o scegli le tenebre rifiutando il cristo come salvatore questa seconda scelta ti condurrà a compiere opere che sono malvagie commenta l'evangelista giovanni infatti chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate versetto 20 nella relazione umana queste parole esprimono già modelli comportamentali comunemente riscontrabili quante volte le malvagità degli uomini hanno avuto l'oscurità quale complice ideale del loro accadere furti e delitti o altre nefandezze trovano nel buio l'habitat naturale nel quale manifestarsi il buio nasconde il buio è complice il buio ti toglie la responsabilità della verità e ti abilita a recitare la commedia della menzogna se il male compiuto venisse a galla sarebbe riprovato soggetto cioè a pubblica condanna non venire alla luce è l'impegno di chi compie il male ma non ne vuole le conseguenze agire nella verità invece non fa temere l'evidenza delle cose tutto questo discorso che è una valenza sul piano umano si arricchisce nel testo evangelico di significati cristologici Gesù è luce del mondo chi fa il male dice san giovanni odia la luce vivere facendo il male significa così rifiutare Gesù come luce della nostra vita significa non orientare la nostra esistenza a lui rimanendo così nelle tenebre il versetto 21 del Vangelo odierno ci ricolloca anch'esso in una terminologia evangelica altrettanto ricca di riferimenti alla persona di Gesù chi fa la verità viene verso la luce la verità non è un concetto astratto della mente non è un'idea a carattere filosofico proprio nel Vangelo di Giovanni Gesù dice io sono la verità fare la verità dunque è l'agire di ogni credente che vive impegnandosi a incarnare il mistero di Cristo nella propria esistenza Cristo in noi dirà san paolo in un suo passaggio esprimendo il medesimo concetto di Giovanni fare la verità ci porterà verso la luce versetto 21 cercare di incarnare il mistero di Cristo nella nostra vita ci condurrà dunque verso di Lui luce divina che illuminerà e sazierà il nostro desiderio di verità andare verso la luce condurre cioè i nostri giorni a Cristo manifesterà la qualità delle nostre opere che così appariranno chiaramente come opere fatte in Dio l'agire del cristiano è un operare nella vita a partire da Cristo sarà Lui la nostra verità sarà Lui la nostra luce la fede in Lui ci porrà in relazione con il Padre che ce lo ha inviato per la nostra salvezza le opere del credente piene della verità e della luce di Cristo ci porteranno al Padre ci metteranno in relazione con Lui ci faranno fare l'esperienza dell'unione con Dio facendoci vivere in Cristo la condizione di figli sarà perciò necessario come dirà Gesù a Nicodemo rinascere dall'alto l'azione di grazia ad opera dello Spirito Santo ci farà vivere dunque il mistero di Dio in Cristo Signore ci farà entrare nella verità di Gesù maestro dei nostri giorni ci farà camminare in Lui luce del nostro cammino al Padre in Cristo illuminati dallo Spirito si innalzi la nostra lode pasquale nei secoli dei secoli Amen